buongiorno a tutti ben ritrovati sugli schermi di casa del sole tv a parlare di metacomunicazione con lo scrittore ed esperto di metacomunicazione amico di casa del sole spesso ospite dei nostri schermi stefano re buongiorno stefano buongiorno jeff e buongiorno a tutti coloro che ci seguono stefano siamo in un periodo interessantissimo perché consecutivamente c'è stato prima il vertice di casambe capi di stato dei paesi brics che si sono allargati ad altri 13 paesi quindi adesso è un brics allargato con la turchia fra i partner e subito dopo le elezioni statunitensi che fra l'altro inaspettatamente hanno dato subito immediatamente un risultato lo stesso giorno delle elezioni cosa che difficilmente succede e specialmente negli ultimi tempi trump torna alla casa bianca e questo ha anche innescato tutta una serie di cose mediatiche e possiamo anche scherzarci un po sopra io credo ma anche di fatti politici internazionali in germania si è innescata una crisi di governo che probabilmente se kamara harris avesse vinto le elezioni può darsi che non ci sarebbe stata e quindi è un momento davvero interessante tutto sembra cambiare ciò che non cambia ma che peggiora sempre è l'informazione e la comunicazione in questa parte di mondo non possiamo un granché giudicare ciò che succede dalle altre parti ma in occidente la comunicazione è sempre peggio è sempre più favolesca a volte quasi da barzelletta stefano so che tu fra l'altro hai già dei corsi altri nuovi corsi di metacomunicazione ne abbiamo parlato tutte le volte nelle ultime interviste e a novembre e a gennaio quindi poi ci dirai anche le date ma dici cosa cosa pensi della vincita di trump e che cosa tu sei riuscito a recepire dall'esterno perché so che non guardi per tua fortuna non guardi il mainstream non guardi la televisione beh guarda jeff io ho una riflessione che ovviamente in parte era già impalcata perché era qualcosa di cui occupandomi di metacomunicazione io do più o meno per scontato però mi rendo conto che per i non addetti ai lavori può sembrare un po' quasi disorientante la prima volta che la si sente la si prende in considerazione è che noi tutti noi necessariamente viviamo dentro una narrazione di realtà cioè per esempio nel nostro ambiente appunto nella contro informazione o vera informazione insomma chiamiamolo un po' informazione come come ci piace chiamarla diversamente si pensa spesso appunto che di là si faccia gli altri noi appunto in questo caso il mainstream faccia disinformazione e faccia una narrazione della realtà mentre noi sappiamo qual è la realtà quella vera e parliamo di quella vera ma il nostro cervello cioè il cervello degli esseri umani indipendentemente da quale posizione poi scelgano su qualunque tema e argomento funziona sempre allo stesso modo cioè funziona con narrazioni di realtà per capirci gli animali non avendo un livello di autocoscienza e quindi non avendo la necessità di dare significate alle cose reagiscono alle cose istintivamente per gli animali non c'è una narrazione cioè per esempio un altro animale non è buono o cattivo una cosa che succede non è giusta o sbagliata è solo piacevole o spiacevole mi avvicino ma lontano c'è una reazione relazionale, automatica, istintiva per gli esseri umani invece e ribadisco per tutti gli esseri umani ci sono quelli intelligenti, quelli stupidi, ci sono quelli che tengono Milan, quelli che tengono Inter, quelli che che hanno votato Kamala Harris, quelli che hanno votato Trump eccetera ma tutti hanno lo stesso tipo di necessità livello cerebrale che è quello di dare un significato agli eventi intorno a loro cioè proprio il cervello non è in grado di vedere gli eventi e considerarli solo come cose che capitano gli dà un significato automaticamente questo significato è una narrazione letteralmente cioè è un racconto e allora diciamo che anche gli stessi eventi o lo stesso tipo di input, di stimoli che arrivano al cervello per individui che sposano una narrazione hanno significato per individui che ne sposano un'altra ne hanno un altro ma nessuno dei due è vero o sbagliato o falso sono narrazioni, sono tutte narrazioni per cui ecco se parti da questa posizione puoi fare delle osservazioni un pochino più mirate, più attente su non tanto appunto il fatto che uno sia falso uno sia vero, uno sia giusto, uno sbagliato quanto sul distacco tra i livelli di credenza ad una narrazione piuttosto che a quello di un'altra un po' più oggettive ma no, allora io non credo nell'oggettività di nuovo non credo che esista perché gli esseri umani necessariamente ogni essere umano guarda qualcosa dal suo punto di vista chiamiamo oggettivo quello che diciamo in linea di massima ci piace chiamare oggettivo ma di solito la condiamo dicendo ma siamo in tantissimi a dirlo così, a vederlo così quindi è più vero ma è solo un accordo se appunto si invertono i numeri cambia la realtà è oggettivo o non è oggettivo che c'è stata una pandemia? non c'è un cazzo di oggettivo a riguardo se la maggioranza delle persone crede ci sia stata una pandemia diventa un dato che viene considerato oggettivo cioè tutti dicono sì c'è stata la pandemia quindi c'è stata se altri dicono no, non c'è stata e poi come si fa a capire se c'è stata o no? uno dice vediamo cosa vuol dire il termine pandemia e scopriamo che sul sito dell'OMS è stato cambiato la definizione del termine di pandemia nell'arco degli anni quindi prima una roba era pandemia e un'altra no poi dopo un po' un'altra roba era pandemia che prima non lo era e viceversa quindi chi è che lo decide? per questo dico che tutto è narrazione del resto una volta i bambini erano vivaci adesso ci hanno i problemi disturbi di questo e di quello perché una volta era chiamata vivacità adesso è chiamato disturbo di questo e quello però di nuovo è solo come vogliamo vedere la cosa e questa è la narrazione allora le analisi interessanti dal mio punto di vista non sono tanto nel vedere quale delle due è giusta o sbagliata quale è vera, quale è falsa ma quanto una narrazione calza con ciò che poi avviene e allora per esempio abbiamo visto e questo lo trovo molto interessante è che nell'arco degli ultimi decenni alcune strutture di potere hanno mano a mano preso il controllo della narrazione cioè Diego Fusaro per esempio usa un termine che secondo me è molto azzeccato è quello dei padroni del discorso l'ho sentito dire diverse volte ecco secondo me è molto molto preciso in ambito metacomunicativo è assolutamente lineare i padroni del discorso intende quel tipo di poteri di persone, di individui, di gruppi che sono in grado di declinare una narrazione alla massa e noi vediamo che questo avviene esplicitamente tramite appunto i mass media cioè la possibilità di avere dei mezzi di comunicazione di massa che diano uno stesso significato o un significato molto allineato a questo, a quel modello a questo, a quell'evento e poi si sparge nella popolazione e viene condiviso e allora ecco che a volte è interessante vedere come questo potere, questa forza che sicuramente decide tanto perché per esempio può decidere se siamo di fronte a una grave minaccia oppure no può decidere se uno Stato è un aggressore o un aggredito a segnare queste cose a seconda di come e questo diciamo può in qualche modo essere condiviso ma poi succede anche che proprio anche usando al massimo questo potere è un esempio molto chiaro è quello che è stato fatto adesso durante la campagna elettorale da parte dei media il nemico della democrazia esatto, in maniera preponderante che cosa facevano? presentavano un modello di narrazione in cui per inciso sembrava che Kamala Harris fosse in vantaggio in quanto a favore degli elettori rispetto a Trump ora io non ho neanche visto i risultati definitivi almeno quelli che la narrazione ufficiale ci fornisce quali sono? tu lo sai? ma ora di preciso non me li ricordo ma comunque ha stravinto Trump mi pare di aver capito che la vittoria è stata decisamente schiacciante e questo è interessante perché appunto vediamo come anche quando un potere ha sia sul piano popolare che sul piano dei super dei grandi elettori esatto sì sì di fatti che sono ovviamente se predistinguono però è interessante il fatto che la narrazione il racconto di questa realtà che veniva fatto dai media si sia scontrato con una realtà che invece lo sbugiarda cioè la narrazione diceva voteranno in massa per Kamala Harris e la realtà è stata hanno votato in massa per Trump cioè ora non me ne frega niente se Kamala Harris è buona o cattiva Trump è buono o cattivo però c'è qualcuno che ti racconta una cosa a livello di massa e che convince milioni e milioni di persone che la realtà sia fatta così e poi boom ci sbatti il muso e dici no non è fatta così è fatta in un altro modo e di questo ti accorgi anche dalle reazioni un po' scomposte che si sono diciamo allineate a raffica proprio col risultato delle elezioni che sono estremamente simili a quello che è già successo sempre con Trump nelle altre elezioni quelle con la Clinton in cui lì di nuovo la situazione era proprio la stessa cioè c'era un apparato mediatico che ti raccontava devi vincere questa vincerà sicuramente questa perché è migliore perché è qua altrimenti succedeva a fine al mondo e invece no vince l'altro e tutti quelli che raccontavano questa cosa si canta storie che raccontavano questa realtà e che avevano un feedback perché le persone che guardavano questa realtà dicevano accidenti andrà sicuramente così visto che me l'ha raccontato così bene e invece no è andato cos'ha punto e qui si come dire sono due treni uno ti disegna una realtà e sei andato nel fosso e l'altro invece passa ma non era quello che tu credevi vero e quindi ti trovi improvvisamente con una realtà diversa da quella che avevi eletto che avevi accettato come tua narrazione e qui ci sono le reazioni scomposte cioè le persone che per tappare a questa cosa si inventano di tutto cercano di cambiare le carte in tavola a livello percettivo oppure si arroccano come i giapponesi sulle isolette dicono no ma noi ho letto una dichiarazione a caldo di Stramer del premier inglese che diceva sì ma no l'Inghilterra del sindaco non so neanche chi è Stramer adesso in Inghilterra io non seguo niente è il premier inglese è il premier il primo ministro ok perfetto che ha dichiarato una cosa tipo nonostante questa cosa tremenda che sta succedendo l'Inghilterra continuerà ad essere accogliente noi continueremo a difendere i diritti delle donne ci mancava tra poco che dicesse sì ma poi anche e anche sul continueremo a essere sensibili al cambiamento climatico ecco questa è un'altra cosa interessante come il crollo di una narrazione cioè di un aspetto della narrazione in realtà faccia castello di carte cioè automaticamente tutte le altre narrazioni che erano collegate intrecciate ad essa cascano tutte insieme no e di nuovo boom le reazioni scomposte di chi in quelle narrazioni aveva riposto le sue energie la sua la sua visione della vita e della propria identità no perché poi per fare il paladino della guerra contro il cambiamento climatico devi credere al cambiamento climatico e se credere al cambiamento climatico fa parte di un treno in cui c'è anche il fatto che Trump è quello cattivo e Kamalari svincerà perché è quella buona boom succede il contrario e resti spiazzato no e questo è interessante proprio da un punto di vista percettivo cioè è interessante per vedere per insegnare a tutti sia a chi sposava una narrativa diversa e l'ha vista affermarsi sia da chi sposava una narrativa che ha visto frantumarsi che cosa è dire alle narrative perché sì ma soprattutto imparare a distinguere se stessi dalla narrazione di realtà cioè cominciare a capire che l'identità che costruiamo è collegata a una narrazione di realtà ma che sono tutti strumenti cioè sono giocattoli insomma se vince Trump e tu pensavi che avrebbe vinto Kamalari se pensavi che il mondo finirà domani per il cambiamento climatico anche se queste cose in qualche modo ricevono un colpo o addirittura scompaiono vengono distrutte come narrazioni tu comunque esisti e comunque hai ancora cioè sei uno strumento di te stesso sia nel formare la tua identità sia nel cercare di comporre come funziona il cervello e come recepisce tutto questo sì di fatti per esempio un'altra cosa sempre alcuni meccanismi percettivi interessanti nel fronte di coloro che sostanzialmente stanno criticano fortemente la narrativa questa narrazione del mainstream si è anche verificato un'altra onda lunga che io stesso in gran parte condivido e sento molto anche mia che è quella della sfiducia assoluta per cui il concetto del sì ma comunque qua non importa che vinca questo che vinca quello sono tutti parte del sistema cattivo che è una narrazione appunto ribadisco io la condivido non la critico dicendo è falsa però è una narrazione cioè può essere una narrazione quella come può essere una narrazione che però questo qua lo è meno di altri oppure che questo qua è quello che si è staccato da eccetera cioè sono tutte sono tutti racconti non sono realtà sono racconti della realtà e il fatto di scegliere di sostenere dentro di noi dentro la nostra mente uno di questi racconti piuttosto che un altro non ci dice che cos'è la realtà fuori ma ci dice molto di cosa siamo noi di cosa abbiamo bisogno noi di quali sono le nostre le nostre reali esigenze la stessa premessa l'ha fatta l'ha fatta pochissimi giorni fa Federico Povoleri che ha scritto tre libri sulla lui li ha scritti sulla propaganda e sui mezzi che usano per fare la manipolazione di massa tramite i media tramite lo spettacolo eccetera però poi ha fatto la stessa premessa infine perché ha detto bisogna capire come funziona il nostro cervello perché non si tratta poi tra l'altro chi stabilisce qual è quella vera nessuno lo può stabilire quindi noi diciamo che è vero una certa cosa ma ne siamo convinti noi non abbiamo non è scritto sulla roccia ecco è la parte più importante perché poi è da lì che arriva veramente quello che chiamiamo a volte potere a volte responsabilità ma che poi è la stessa cosa che consiste proprio nel fatto di rendersi conto che il mondo che vedo è dentro la mia testa e dentro la mia testa sono io a definire che è così il mondo che vedo quindi di fatto sto inseguendo le mie esigenze cioè in altre parole in maniera ancora più semplice e lineare noi siamo il padrone occulto di noi stessi quando noi ce la prendiamo con qualcuno che sia al vicino di casa o che sia la multinazionale o che siano i Novax in realtà ce la stiamo prendendo con immagini dentro la nostra testa che rappresentano altrettante necessità nostre per esempio la necessità di odiare di avere un nemico di avere qualcuno che se stiamo male per esempio di avere un colpevole queste sono alcune delle cose che a livello di quando si parla di manipolazione si pensa sempre che ci sia dietro chissà quale trick che track segreto ma sono meccanismi semplicissimi e come si fa a far odiare perché ha funzionato bene la dialettica sul Novax hanno detto se tu ti ammali è perché c'è il Novax che ti fa abbalare questo ovviamente non è niente di logico non c'è una conseguenzialità logica se tu ti sei in teoria fatto una vaccinazione di tutta una malattia che ci sia una persona che si ammala o no non ti dovrebbe cambiare niente a te invece il fatto che il problema qual è? che tu stai male stai male non solo se ti prendi l'influenza perché comunque c'è il naso che ti cola ti fa male la gola non respiri bene ma stai male anche perché per esempio ti hanno messo a coprifuoco perché alla tv ti spaventano perché ti dicono che sta morendo a mezzomondo eccetera perché è in ospedale non ti fanno entrare vestito da astronauta tutte queste cose ti angosciano ti fanno stare male e hai bisogno di un colpevole quando stai male e quindi ecco che boom ecco il colpevole sono quelli là siccome esistono allora e tu sentendo male dici beh ok comincia a tirare mazzate a quelli là è lo stesso identico meccanismo che è stato usato tutte le volte che si è creata la discriminazione lo usavano i nazisti con gli ebrei lo usano i sionisti con i palestinesi lo usavano qua appunto in quel periodo lì i fanatici della silinga per i novax lo usano i fanatici del cambiamento climatico per chi ha il paddino a diesel eccetera cioè è un modo di scaricare l'angoscia esistenziale tutto l'insieme dell'angoscia esistenziale su dei nemici più o meno immaginari di nuovo è una necessità del nostro cervello non è diversa da quello che tutte le volte litiga con le persone quando entra in un bar o quando si apre una discussione se litiga non è che gli altri sono tutti lì a litigare con lui è lui che ha bisogno di litigare se è lui quello che litiga sempre con tutti gli altri non litigano evidentemente spiegata con sé Stefano sembra anche abbastanza semplice da capire ma questa è un'altra delle cose buffe i meccanismi mentali sono semplici da capire sono veramente semplici da capire da decifrare la difficoltà non è nel comprenderli e vederli ma nell'accettare di vederli la difficoltà grossa è nella continua difesa che costruiamo attorno a noi per non vedere queste cose perché quando le riporti alla loro verità essenziale e semplicissima è che sostanzialmente sei tu a costruirti la situazione in cui vivi e è molto più facile è molto più bello dare la colpa agli altri a qualunque cosa si tratta di dare potere a noi stessi alla fine decidere di dare potere a ciò che percepiamo noi e non ciò che ci dice qualcun altro il problema è proprio che noi di fatto rifiutiamo il potere cioè letteralmente è molto più visibile nelle masse anche per me è più visibile nelle masse perché perché quando lo vedi dentro di te e basta sei sull'unico colpevole se sei in una massa il tuo cervello dice beh ma non sono mica io sono tantissimi siamo tutti o tutti quanti o gli altri e quindi tu ti senti salvo e allora i tuoi occhi cominciano il tuo cervello dice ok poi te lo lascio vedere è per quello che è più facile osservare le cose nelle masse negli elementi cosiddetti che esistano vai a studiarlo fuori ma è dentro il problema cioè fuori tecnicamente tu non ci puoi fare un accidente io non posso cambiare i meccanismi cerebrali delle altre persone ma i miei sì li posso osservare prendermi la responsabilità e usare il mio potere all'interno per strutturarli in modo diverso o farli operare in modo diverso e lì si cambia quando Gandhi diceva se vuoi cambiare il mondo cambia te stesso parlava di questo poi certo si può tradurre anche lì in formulette del tipo alla Gesù tratta gli altri come vuoi essere trattato tu e poi appunto si può che non è neanche esatto perché poi ci sono sempre cose diverse però il punto è proprio che il potere ce l'hai su te stesso non ce l'hai all'esterno noi invece passiamo il tempo a giudicare all'esterno e poi a tentare di operare all'esterno come cioè di mettere a posto quello che fanno quelli là non di mettere a posto quello che facciamo noi e il problema è che noi non possiamo tecnicamente mettere a posto niente in quello che fanno gli altri tu puoi sparare alla gente puoi metterla in catene puoi mettere gli obblighi di vieti eccetera ma così facendo di fatto togli il potere cioè comunque se loro lo accettano si autocancellano il loro potere ma non è che lo acquisisci tu tu l'unico potere che hai è su te stesso tu puoi cambiare te stesso e nel momento in cui cambi te stesso effettivamente poi hai un impatto anche all'esterno ma finché continuiamo a guardare fuori a combattere fuori di fatto restiamo dentro lo stesso tipo di trappola e questa è un'altra cosa che si è manifestata tante volte quando si dice arriva una rivoluzione c'è un sistema oppressivo brutto arriva una rivoluzione la rivoluzione vince e fa le stesse cose che faceva il sistema brutto solo al contrario questa roba io l'ho vista addirittura succedere non accadere ma essere già pronosticata durante i primi periodi non so se ti ricordi quando c'era stato il decreto Lorenzini eccetera e c'era stata una forte risposta di famiglie di persone dicevano no è inaccettabile questi qua che cercano di dirci come dobbiamo curare i nostri figli però molti dicevano adesso appena riusciremo noi a prendere il potere ad avere ragione eccetera toglieremo i figli a quelli che li hanno fatti vaccinare che dico scusa ma è la stessa cosa che volevano fare a te hanno fatto il contrario esatto allora noi dicevano cioè il punto non è se questa cosa sia giusta o sbagliata il punto è il processo con cui questa cosa si attua quelli che tolgono a te il figlio perché pensano che tu non lo curi bene se tu quando hai il potere togli a loro il figlio perché pensi che loro non lo curi bene è la stessa cosa non importa se gli inietti una roba o un'altra se non gli inietti niente quello viene dopo è esposto ma il processo percettivo è lo stesso se tu sei uguale al mostro che vuoi combattere allora il mostro vince sempre non importa chi chi vince davvero e questa è un'altra cosa che molti per esempio sostengono già adesso riguardo alle elezioni e non posso dire che sia un ragionamento fallace cioè il fatto di dire qui non è che cambia molto chi va al governo se di fatto poi i governi riescono sempre a seguire le stesse strade però è anche vero che qualche cosettina così qualche segnale interessante c'è proprio di dinamica non tanto ma in termini di dettaglio penso al fatto che questa è una roba che io dico con orgoglio io già due anni fa un anno e mezzo fa più o meno scrivevo che il mio sogno sarebbe stato una cordata Trump Kennedy no? solo che Kennedy al tempo era ancora chiaramente nell'area democratica lui era un democratico è sempre stato democratico no? e quindi la sua famiglia e lui stesso dichiarava questo l'avevamo detto anche con Umberto Pascali che io intervisto la domenica da un po' di tempo l'avevamo detto un anno fa anche anche voi che hai la possibilità di un'unione tra Trump e Kennedy? no dai che bello non l'ho sentito ma è una cosa che io lo facevo come un sogno cioè una mia idea bizzarra però è assurda perché Trump è chiaramente orientato in ambito repubblicano mentre però dicevo le mie elezioni da sogno sarebbero stati Trump contro Kennedy chiunque vinca in un modo o nell'altro è un po' meglio di tutta l'altra schifezza il fatto di vederli insieme per me è stato veramente molto bello perché questo nello specifico? perché Trump di cui non è che abbia una grandissima opinione però comunque ha un po' il gioco dello spacco gli equilibri e tra le altre cose di nuovo parliamo di dati per cui è una narrazione però il fatto è che di tutti i presidenti degli Stati Uniti credo che sia l'unico che non ha mai iniziato una guerra per cui francamente se devo dire mi è sembrato un pochino più poi ci sono tante cose che io non sono per niente d'accordo con quello che dichiara con le modalità a partire dal suo non pronunciarsi su Israele cosa che tra l'altro sono andato a cercare anche per Kennedy almeno io non ho trovato nessuna dichiarazione di Kennedy riguardo a Gaza riguardo a quello che sta succedendo in Israele e non mi piace per niente questa cosa per cui vabbè ci ho detto Trump è uno che spacca gli equilibri e quindi sono molto felice se spacca un po' di questi equilibri che mi stavano veramente andando stretti mentre Kennedy è uno che da vent'anni è in lotta proprio lancia in resta contro Big Farm contro le industrie del farmaco contro le dittature sanitarie non ha risparmiato neanche una una bordata a tutta la follia covid a tutti gli obblighi assurdi eccetera l'idea che lui arrivi in questo treno vittorioso con Maha con Make America Healthy Again addirittura essere lui il responsabile adesso lo spero spero che adesso come dire non cambino gli equilibri sai che una volta quando si arriva alla vittoria poi si fanno fatti differenti ma se non cambiassero gli equilibri lui finisce a essere il punto di riferimento responsabile delle agenzie di sanità per tutti gli Stati Uniti e che come sappiamo non hanno peso solo sugli Stati Uniti cioè nel senso quello che l'FDA fa o non fa poi ha un riverbero fortissimo dappertutto in tutta Europa in tutto il mondo quindi ecco quindi se effettivamente gli organi di sicurezza della sanità degli Stati Uniti venissero presi da lui e cominciassi a far pulizia sarebbe un raggio di luce sicuramente caspita almeno su quel fronte diciamo che ci sarebbe veramente la possibilità di respirare un po' di vedere per esempio arrivare alla luce della roba che sappiamo da tanti anni ma che finora era relegata poi tra l'altro un altro accenno che lo devo fare perché ho letto un titolo di non so quali perché poi ho letto proprio solo il titolo in realtà di uno di questi commentatori di questi disperati dal fatto che la loro narrazione è crollata con queste elezioni che diceva adesso Kennedy andrà alla salute e pensate che vuole occuparsi persino combattere persino il fenomeno delle scie chimiche come ridere bene bene cominciamo a vedere che cazzo stanno spruzzando in questi cieli che non si può sapere ormai è certificato che lo fanno che cazzo state facendo perché solo un coglione guarda il cielo pieno di strisce che durano per giorni che creano ste cazzo hanno dovuto inserirlo nella loro stessa narrazione hanno dovuto ammettere che stanno facendo operazioni allora esatto questa cazzo di ingegneria finalmente qualcuno che comincia a fare le domande e ad avere il potere per ottenere risposte e renderle pubbliche così la smettiamo con questa follia diciamo veramente di nuovo di dissociazione di narrazioni cioè uno guarda il cielo da quando sono bambino che guarda il cielo prima era azzurro con qualche striscia bianca quando passava un aeroplano che poi dopo qualche minuto scompariva e da un po' di anni in qua invece sono strisce a tutto andare che poi restano fare i propri disegnini nel cielo i quadrati nel cielo le scacchiere e poi boom si allungano diventano delle nubi coprono tutto e ti viene il tempo di merda questa non è una roba naturale questa è una roba fatta ora non me ne frega niente chi la fa perché la fa ma che ci sia è un fatto ed è tempo che si comincia ci sono già state interrogazioni parlamentari a destra manca ci sono stati degli stati americani che hanno fatto delle leggi per vietare questo modello di almeno sui loro cieli solo che questo secondo la legislazione americana vale solo fino a una certa altitudine per cui sopra non possono bloccarlo però se adesso a livello federale si comincia a guardare dentro sta roba qua dateci delle risposte anche su quello poi magari ci tranquillizzate veramente era solo condensa era solo va bene però guardate fate delle indagini dichiarate sta roba pubblicamente piantiamola di far finta che sia le paranoie del cretino con lo scolapasta in testa questa è una è una narrazione che deve veramente finire nel cestino assieme alle altre narrazioni sceme tipo il Novak che ti infetta o queste altre pittanate Matteo Renzi le battute che facevano che metteva sempre ah come quelli che credono nelle scie chimiche ma difatti cioè terra piatta terra piatta ma basta cioè nel senso è tempo di cominciare seriamente a mettere mettere in chiaro dove stanno alcune cose cioè ristabilire una narrazione un pochino più uniforme a livello globale e questo si può fare solo dall'alto perché effettivamente a proposito di narrazione già che stiamo parlando di vari eventi di questo periodo Stefano aggiungo una nota che secondo me è degna di interesse c'è stata una votazione all'ONU una settimana fa più o meno per togliere il blocco a Cuba che ce l'ha dagli anni 60 quindi è una vita che è sotto embargo è stata una votazione con un esito incredibile una settimana dopo pochi giorni dopo il summit di Kazan in Russia e praticamente 149 paesi hanno votato contro due paesi che hanno votato in modo diverso che erano gli Stati Uniti e Israele tutti gli altri hanno votato in modo favorevole a parte l'Ucraina che non ha votato è un paese che anche un altro paese che non ha votato ma insomma a parte due o tre l'esito era 149 a 2 quindi l'isolamento di due paesi che per molti che credano in una certa narrativa sono un po' il male del mondo ma anche questo è vabbè prima diciamo nella tua riflessione introduttiva hai parlato anche di questo dei BRICS dell'allargamento questi sono macro fenomeni che abbiamo visto in opera da un bel pezzo all'inizio i BRICS sembravano essere quei quattro sfigati eccetera però molti analisti dicevano guardate che lì sta tutto il futuro io mi ricordo prima che scoppiasse l'operazione speciale che diceva guardate che qua lo scontro non è tra la Russia o Putin e qualche diciamo europeo oppure appunto qualche americano e basta qui è uno scontro più globale e secondo me è una delle distinzioni interessanti che non ho sentito fare un gran che è per esempio sull'età media l'età media della popolazione dei paesi BRICS è bassa cioè in alcuni stati è bassissima soprattutto in alcuni stati arabi estremamente popolosi come il Pakistan mentre invece l'età media diciamo del mondo avanzato industrializzato quello del primo mondo che è rimasto per tanto tempo arroccato in posizioni di potere è sempre più in là cioè di fatto loro sono il futuro noi siamo il passato noi eravamo a Kazan Stefano e tutti i giornalisti che c'erano occidentali ce ne erano pochi italiani nessuno tutti i giornalisti che c'erano africani asiatici erano tra i 25 e i 35 anni loro hanno hanno il futuro sono il futuro punto poi c'è chi per esempio a livello macro a livello globale cerca di gestire i flussi i famosi flussi migratori eccetera proprio per fare iniezioni di gioventù al nostro mondo decrepito e c'è chi invece pensa che il mondo debba andare dove deve andare per cui si debba semplicemente spostare l'asse dove effettivamente c'è forza c'è energia c'è gioventù comunque quello e soprattutto l'aspetto economico sono molto interessanti secondo me c'è da dire che come dire le piovre di potere che hanno che si sono avvinghiate nel vecchio mondo allungano i tentacoli anche nei bricks mica male perché cercano di infilare sia appunto il controllo con le puttanate sanitarie nel summit c'è stato un attentato in Turchia Erdogan era a Kazan e in Turchia c'è stato più o meno attentato perché erano insomma un gruppetto di terroristi un po' fai da te armati di mitra per fortuna però ci sono state vittime comunque sì ma al di là proprio degli eventi violenti io parlo proprio dei poteri cioè quando Lula procede da un lato bricks novità cambiamento libertà poi dall'altro continua con gli obblighi e le sanzioni alle famiglie che non vaccino le figlie eccetera eccetera il Venezuela non è potuto entrare per adesso nei bricks perché il Brasile ha messo diciamo così il veto perché loro vanno avanti a decisioni all'unanimità devono essere tutti d'accordo però di fatto c'è questa questa diciamo tentativo di abbordare di trasferire i poteri nell'ambito bricks perché che tra l'altro di nuovo non è una cosa stupefacente cioè se tu sei al potere in un ambito e vedi che il potere comincia a spostarsi di là cerchi di spostarti di là tu con tutto il tuo potere cioè cerchi di essere al comando anche di là perché perché mai dovresti restare lì come un cretino su una nave che affonda lo stesso fatto che quasi tutte le politiche l'abbiamo visto economiche militari inclusa questa questa assurda guerra autodemolitiva portata dall'Europa alla Russia cioè sono tutte atti suicidi abbastanza chiaramente pensa alla gestione economica durante la pandemia e poi dopo con la guerra sembra fatto apposta studiato per affossare tutta la possibile il possibile proseguo sviluppo fiorire dell'economia a livello europeo ma autobombardarsi da soli il gasdotto cioè già le scelte economiche fare le sanzioni nella Russia che si ripercuotono su di noi passiamo noi a pagare bollette più alte mentre la loro economia fiorisce perché smettendola di avere a che fare con noi rabbini si spostano di là e cominciano seriamente a fare affari con i cinesi a fare affari col mondo con Sud America e lì hanno mercati enormi rispetto a questi dell'Europa che noi siamo tutti con la puzza sotto il naso per cui cioè è pienamente un percorso suicida e di nuovo è coerente con l'idea che chi queste piovre questi veri e propri vampiri che si sono sfamati mantenendosi al comando e nel controllo per la società americana l'impero americano e l'impero europeo sostanzialmente adesso stiano portando a fallimento queste imprese per trasferirsi dall'altra parte bisogna vedere se ce la fanno quanto spazio trovano eccetera però è chiaro anche questo è comprensibile cioè se essere nei loro panni faresti lo stesso cioè perché dovrebbero restare sulla nave e farla affondare affondarci insieme sì tra l'altro ora non per parlare per forza di attualità ma Trump durante la campagna elettorale qualche giorno fa non ricordo il giorno ha detto tutti quei paesi che vogliono che stanno cercando che vogliono abbandonare il dollaro dovranno vedersela con noi insomma quindi c'è un'idea ben precisa comunque perché make american great again però è ovvio che ha scapito degli altri a meno che il mondo cambi completamente approccio politico ma per adesso ecco sì guarda sì come dicevo prima giusto per essere ben chiari io non è che abbia una simpatia infinita per Trump mi piace sicuramente il fatto che vada a rompere gli schemi che abbiamo visto quelli che Giulietto Chiesa denunciava da una vita e non solo lui un miliardo di persone il concetto del deep state il concetto di queste strutture di potere e soprattutto questa ipocrisia culturale soffocante dentro cui ci stavano letteralmente soffocando cioè io francamente di sentir ripetere dalla mattina alla sera che anche gli uomini possono fare i bambini basta avete rotto i coglioni veramente in qualche modo si sono rotto i scatole anche gli statunitensi a quanto pare perché evidentemente non ha portato bene tutto questo diciamo che in qualche modo che questa narrativa prenda una bella facciata e si fermi un attimo secondo me era proprio fisiologicamente necessario se no veramente si arrivava ad un punto in cui gli singoli individui dovevano difendersi fisicamente da questa aggressione mentale costante questo sono assolutamente d'accordo e questo vale anche per la fine del mondo in arrivo perché c'è il cambiamento climatico ogni 4 secondi piove aiuto col palcamento climatico c'è il sole aiuto col palcamento climatico ed è sempre colpa tua quindi devi sempre fare nuovi debiti pagare più soldi a questa struttura che poi produce inquinamento per cui una cosa veramente ormai insopportabile e in qualche modo quello che è accaduto adesso in queste elezioni spero che sia uno scompaginamento delle carte poi ribadisco a me Kennedy piace molto e spero che faccia il suo lavoro e che non si lasci trascinare in certe cose francamente sono ancora molto perplesso sulla questione di Israele e della Palestina perché mi pare che su quello invece non siano state mai neanche sfiorate possibilità di cambiamenti il che significa che il popolo palestinese continuerà a essere massacrato finché Israele non avrà finito le sue diciamo le sue le sue piani qualunque cazzo sia non so almeno per ora non vedo all'orizzonte niente mentre in qualche modo forse forse un po' di speranza la vedo per l'Europa adesso perché perché in fin dei conti tutta questa deriva anche europea questo strapotere dell'UEF questo strapotere dell'OMS si basavano fondamentalmente su gangli di potere che stavano negli Stati Uniti si tratta di vedere adesso se col cambio della guardia questi gangli di potere vengono presi o meno perché anche l'altra volta durante l'amministrazione Trump Trump non aveva il controllo di tutti gli Stati Uniti era riuscito qua e là a fare qualcosa vincere qualche battaglietta ma a gran parte continuava a operare per i cazzi suoi tant'è che spesso ha dovuto fare delle scelte delle azioni quasi di rincorsa per recuperare alcune cose che andavano per i fatti loro ora la squadra con cui si è mosso stavolta sembra essere una squadra più veramente di rottura perché Elon Musk è quello che ha messo in piedi X e ha tolto il ban al free speech cioè si è io mi ricordo un tweet di Elon Musk che diceva letteralmente my pronouns are prosecute barra fauci cioè i miei sai i pronomi quelli che in questa nuova cultura walk bisogna definire se voglio che venga definito al femminile al maschile al neutro che cosa lui ha messo prosecute fauci cioè arrestate indagate mettete sotto processo il dottor fauci quindi e Musk era uno della squadra tutto diciamo a pieno titolo ha doganato in un certo senso un altro mainstream che speriamo che sia diverso e che sia un po' ovviamente uno dice ma bello e se questi adesso cominciano a cantare la stessa musica nella loro salsa ovviamente siamo di fronte alla possibilità di però di fatto almeno però almeno c'è un altro esatto quel livello di mostruosità che stava diventando soffocante al momento secondo me e ribadisco credo che in Europa avrà delle forti ripercussioni perché in fin dei conti quando si dice ed è un fatto che l'Italia è una colonia degli Stati Uniti che i governi italiani ubbidiscono sempre a quattro zampe agli Stati Uniti però se il governo degli Stati Uniti è al guinzaglio di questi poteri che sono gli stessi che si siedono all'UEF allora ok tutta la come dire la cordata segue no quegli ordini lì ma se il governo degli Stati Uniti li manda a cagare se per esempio in questo Trump è stato abbastanza esplicito più di una volta cioè lui ha detto io quando dovessi avere il mandato in 24 ore la guerra in Ucraina finisce e questo sarebbe un bel calcio in cura tutta una serie di narrative sul fatto che Putin ci deve invadere tutti al nemico tra l'altro Putin ha detto che se Scholz volesse basterebbe che premesse un tasto un bottone per riaprire almeno una porzione del Nord Stream e quindi per riattivare l'economia non lo vuole fare però adesso c'è una crisi di governo e quindi cambieranno le cose in Germania è questo che dico che secondo me è lì 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 tra le altre diciamo dichiarazioni a caldo della vittoria di Trump ho sentito quella di Zelensky che mi ha fatto impazzire perché ha detto che è una vittoria cos'è che ha detto ha usato un aggettivo almeno è stato tradotto con questo aggettivo una cosa tipo impressionante una cosa del genere e che era sicuro che con Trump l'Ucraina avrà una pace giusta improvvisamente siamo alla pace per tutti questi per tutto questo tempo non si poteva far la pace era impossibile parlare tutte le volte che c'era un negoziato di pace no e tra l'altro ovviamente non è che è Zelensky che è ubriaco dalla mattina alla sera o sotto altri effetti non è lui è chi gli tira i fili tant'è vero che più di una volta in qualche occasione lui aveva accettato certe condizioni poi una volta Boris Johnson una volta qualcun altro azzava al telefono diceva no e lui guarda no ho cambiato idea poveraccio anche lui francamente fa un po' pena in questo suo essere tirato a destra e a manca e adesso probabilmente gli è arrivata qualche telefonata che ha detto cominciamo a parlare di pace mettiamo le mani avanti perché questo qui adesso ce la chiude sta partita però ecco penso che questo cambierà molti equilibri anche in Europa e molto rapidamente quindi vediamo un po' come si fosse stare tutto di nuovo bisogna solo vedere anche quanto la vittoria politica che è avvenuta lì in America sia di facciata o sia strutturale lì bisogna vedere quanto a fondo va il tipo di rinnovamento anche perché sul fronte interno che è quello su cui Trump ha molto insistito penso che dei cambiamenti forti li farà se non altro metterà tutti i suoi uomini di fiducia caccerà gli altri probabilmente qualcuno finirà sotto processo magari appunto va di culo a mettere questo processo Fauci sul serio Bill Gates credo che sia molto difficile però l'idea comunque è che qualche due o qualche test anche molto visibile magari la fanno cadere ma più per ristabilire il potere interno un equilibrio interno su come devono funzionare gli Stati Uniti e come dicevi tu anche come riflesso all'esterno in termini economici secondo me lui avvierà un meccanismo un po' autarchico un po' protezionista insomma farà l'America grande per i cazzi suoi diciamo con meno vincoli meno impegni meno rotture di scatole a gestire le cose all'esterno il che però significa che in Europa di fatto il potere di questi gruppi che controllavano le cose come l'UEF come il gruppo Bilderberg come la trilaterale tutte queste strutture sovranazionali che hanno preso sede in Europa ma di fatto il potere lo ricavavano da lì se adesso gli tagliano i cordoni bisogna vedere quei cordoni di potere di energia che arrivano dagli Stati Uniti se vengono rescissi oppure no se vengono rescissi si apre uno scenario del tutto diciamo aperto a quello che può accadere gli equilibri di potere in Europa perché veramente anche qualche capo di governo che fino adesso è stato lì con la coda tra le gambe aspettare gli ordini se improvvisamente non ha più gli stessi referenti potrebbe fare colpi di testa decidere di prendere posizioni vedremo 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 come si muoverà già c'è tutto il gruppo dei paesi dell'est europeo che oscillava da un lato faceva il muso cattivo con Putin però dall'altro lato diceva anche l'Europa andrebbe a cagare quindi insomma ognuno i confini immigrazione ci sono parecchie cose in movimento se cambia l'equilibrio se il gran padrone Stati Uniti si tira un po' indietro bisogna vedere cosa succede qua tra i cani da guardia infatti sì è un momento aperto a tante possibilità però ecco dal punto di vista di noi persone comuni Stefano si tratta invece di prendere il potere ma non nel senso di andare a fare la rivoluzione di prendere il potere di noi stessi e magari tu ci puoi anche dare una mano con questi corsi di metacomunicazione sì beh ovviamente io non è che possa chi sa fare che cosa però diciamo ogni passo in quel senso nel mio piccolo nel mio piccolo opero su questo livello e cerco di di offrire strumenti su questo livello che di nuovo sono pienamente d'accordo con te lo scenario di cui abbiamo parlato riguarda la narrazione globale di questi regni potenti le dinastie eccetera eccetera tu dici le persone comuni le persone normali Draghi in una intervista delle sue in cui Draghi è uno strozzo però è molto è molto bravo è molto sincero nel suo essere veramente uno stronzo perché ti dichiara le cose e difatti in questa intervista per esempio veramente l'ho trovato molto apprezzabile perché ha detto no ma sai ci sono le persone normali poi ci siamo noi le persone normali vivono a quel livello poi ci siamo noi che decidiamo per loro ecco veramente uno cioè non fa finta di essere simpatico non cerca di conquistare la tua simpatia quando racconta balle tipo se non ti vaccini ti muori queste altre cagate così le fa proprio a robottino ma di nuovo non gliene frega niente cioè lui stesso te lo dice lo fa capire chiaramente che dei contenuti lì non gliene sbatteva niente diceva quelle cose perché erano funzionali a svolgere il compito che doveva svolgere punto no d'altra parte qualcuno aveva detto ma te sei ancora legato alla realtà ma quale realtà la realtà adesso la costruiamo noi e quindi decidiamo noi qual è la realtà ma di fatti lui è un po' un manifesto di che cosa può fare una persona quando comincia a operare nell'ambito metacomunicativo cioè comincia a definire il mondo in cui vuole vivere e di fatto a renderlo tale lui non ha nessun potere su di me o su di te però le sue scelte le sue dichiarazioni le sue modalità riescono a muovere le cose in modo tale che io e te ne avvertiamo la pressione e il colpo sta a me e a te fare la stessa cosa cioè operare su noi stessi a quei livelli lì smetterla di percepire che quelli là sono superiori a noi che siamo normali siamo esattamente identici non hanno nulla di più e difatti a livello reale a livello concreto nessuno può obbligarti a fare nulla ma proprio in nessun modo noi continuiamo a pensare eh vabbè ma quando uno e se uno ti dice che ti toglie il lavoro e se uno ti dice che ti toglie la casa ok questo può dire quello che vuole ma non può farti fare delle cose le fai tu tu puoi avere paura che succeda questo e magari poi succede davvero è come se uno ti punta una pistola tu dici e se puoi mi spara ma quello riguarda lui tu non puoi decidere se non ti spara tu puoi decidere cosa fare tu se terrorizzarti se non terrorizzarti se restare calmo se decidere tu come reagire poi certo e se puoi quello mi spara ma che cosa puoi farci tu perché cambia tutto cambia la vita se sei tu a decidere o se lasci tutto in mano agli altri cambia tutto infatti si fa un gran padare di libertà ma la libertà bisognerebbe prima di tutto appunto assumere il potere di noi stessi su noi stessi questo si vede anche chiaramente quando parliamo del nuovo mondo io lo sai sono anni che ormai che parlo di questo e faccio questo perché dove vivo io i luoghi dove ho vissuto le strutture anche qui che sono a Porto X cioè sono tutte cose che vanno verso il nuovo mondo si staccano energeticamente si staccano per il cibo si staccano per l'acqua smettono di rispondere alle leggi a cui non riteniamo più che sia il caso di rispondere cominciamo a operare potere nel fatto non nel viverlo e quando parlo di queste cose e mi sento dire ok dimmi dov'è che vado vengo anch'io vado a farlo anch'io e dove lo fai tu non è che c'è un posto dove vai e lo trovi fatto certo magari ci sono dei posti già avviati dove puoi anche unirti ma la cosa importante è che cominci dentro la tua testa tu a farlo perché se non lo fai tu non cambia niente cioè vai a farlo schiavo da un'altra parte esatto e la maggioranza delle persone e questa è la cosa veramente angosciante però si lega al discorso iniziale sulla narrazione di realtà la maggioranza delle persone vuole essere uno schiavo non a livello cosciente ovviamente se glielo chiedi dici no figurati io voglio sono libero voglio essere libero anzi per la libertà tutto quanto ma di fatto non vuole decidere lui non vuole prendersi lui la responsabilità della sua esistenza e dell'esistenza delle persone che per esempio ha più care cioè devi prenderti queste responsabilità se vuoi essere libero che significa poi tra l'altro avere meno libertà tecnicamente parlando nel senso che più ti prendi queste responsabilità più peso hai nel prendere le decisioni più sei da solo scappestrato più puoi fare quel cavolo che vuoi anche cose folli e quella è l'espressione di potere fare cose folli con le conseguenze che ne derivano e questa è la responsabilità però crescere significa proprio questo diventare liberi significa proprio questo smettere di avere padroni smettere di averli non importa se sono padroni buoni o cattivi quello non cambia niente per cui va benissimo parlare di Trump parlare dell'Europa parlare dei grandi equilibri eccetera però poi ognuno deve scendere nella sua esistenza dentro la sua testa dentro il suo cuore e cominciare a dire io perché esisto cioè io non sono declinato a esistere per queste altre cose queste cose sono fuori è dentro che ci sei questo ci può proteggere dal cascare poi anche nel fanatismo perché quando poi ci si adatta a una visione piuttosto che all'altra e si casca anche molto spesso del fanatismo e questo è un periodo in cui il fanatismo va parecchio di moda diciamo così enormemente vedevo pochi giorni fa il film Civil War di Garland che al di là delle ovvie presenti chicche di fanatismo specifico di propaganda specifica per cui il cattivo necessariamente è razzista eccetera mentre l'altro i soldati più buoni sono ovviamente donne neri eccetera vabbè ok a parte queste cose che sono chicchette di propaganda però nell'insieme secondo me per esempio un messaggio che passa abbastanza bene da quel film che per altri versi è molto pregevole è il fatto della polarizzazione cioè del fatto che i personaggi lì all'interno ognuno di loro col fucile pensa di star facendo la cosa giusta che sia sparare ai looter che sia sparare ai governativi che sia sparare a quelli che stanno con i secessionisti eccetera eccetera però ognuno è talmente oramai convinto che lui ha in mano la verità che l'unica cosa che gli resta da fare è sparare a tutti gli altri perché è l'unico modo di attuare la sua verità ecco questa è una cosa che per esempio i medi hanno enormemente esasperato cioè continuano a farla questa cosa molti lo dicono da un pezzo ovviamente di nuovo su quelle cose vecchissime dividi ed impera creare divisione creare lo scontro però anziché guardarlo fuori anziché guardare cosa fanno gli altri guardiamolo dentro quando noi cominciamo ad avere queste reazioni automaticamente fanatiche nei confronti degli altri nei confronti di chi sposa per vari motivi sulle necessità altre narrazioni di realtà che a noi non piacciono e non perché le persone buone perché devi essere buono devi capire gli altri queste sono cazzate non è che devi puoi scegli se vuoi capire gli altri o se non vuoi capire ma semplicemente perché vivi peggio cioè più sei nello scontro più sei in una situazione costantemente di nemici attorno e quelli di là più sei stressato trasmetti stress e più fai delle cose anche negative nei confronti degli altri perché pensi che sono tuoi nemici più loro faranno cose negative nei tuoi confronti cioè questa roba qua aumenta costantemente la condizione di disagio e di problemi di dolore è un circolo vizioso sì è proprio per egoismo che uno dovrebbe piantarla di litigare di combattere con le altre persone perché il momento in cui smetti di mettere fuori di continuare a far danno e anzi cerchi magari di aiutare le altre persone è proprio il momento in cui in qualche modo intorno a te le ostilità diminuiscono cioè bisogna sempre veramente essere quelli che si fa il primo passo come si dice anche se l'altro non lo fa e ti dice vabbè ma lui continua a tirarmi i sassi ho capito ma tu smettila piantala almeno mettiti nella condizione se puoi di piantarla mettiti se vuoi nella condizione di non prenderti più i sassi in faccia spostati più in là però piantala di lanciarle anche tu perché più fai così e più l'equilibrio migliora più poi ti torna questa roba assolutamente Stefano i tuoi prossimi corsi sono corsi di base o corsi avanzati quando sono e dove allora io ovviamente quando si parla dei corsi io pubblicizzo soltanto quelli quelli base perché sono quelli aperti a chiunque perché una volta che uno partecipa ai primi corsi se vuole andare avanti gli diamo informazioni gli diamo i canali dove vedere quando ci sono gli avanzati anche perché gli altri comunque non si possono frequentare senza aver fatto il primo per cui sono corsi base e sono tutte e due nel nord i prossimi che stiamo facendo un po' un tour nel nord Italia per cui saremo il weekend del 23-24 di questo mese di novembre a Trieste dovremmo averti passato la locandina la mostriamo infatti e poi siamo il 18 e il 19 di gennaio invece saremo in Piemonte vicino a Torino come sempre sono sempre fatti in posti un pochino ospitali e rilassanti e devo dire appunto a Trieste ho già tenuto una conferenza un mese scorso un paio di mesi fa è stato molto bello c'è stata una bella partecipazione infatti poi si è si è diciamo popolato anche il corso per iscriversi c'è un link a cui a cui scrivere un indirizzo email o un link a cui sì allora sulla locandina dovrebbe esserci sia il numero di telefono sia l'indirizzo email che prima era legato al luogo dove avevamo fatto il corso per cui non è la stessa mail di prima adesso dovrebbe essere corsichiocciolastefano.re e poi c'è un numero di telefono comunque per informazioni poi dovrebbe esserci a breve se non è già pronto anche un forma per compilare per chi vuole per chi vuole iscriversi ai corsi in cui insomma si forniscono tutte le informazioni si compila la persona compila i campi e poi dopo sulla base di quello può fare la prenotazione perfetto senti Stefano ci rivediamo presto anche per vedere come si è sviluppata tutta questa schiera di possibilità che ci sono visti i cambiamenti di cui abbiamo parlato così eh difatti sì anch'io sono molto curioso di vedere cosa succederà va bene allora grazie grazie per la tua partecipazione e alla prossima volta grazie mille a te Jeff grazie dell'accoglienza Casa del Sole TV e grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci grazie grazie a te grazie a tutti voi continuate a seguirci anche stasera con il nostro telegiornale la nostra diretta e continuate a partecipare con noi come state facendo scrivendoci eh commentando e quindi partecipando insieme a noi grazie buon proseguimento di giornata e buona fortuna a tutti grazie a tutti grazie a tutti